Oggi vediamo lo stile beau chic per donne femminili e libere. Ciao sono Patrizia, questo è il mio canale Patò74 dove parlo di moda e insegno a disegnare il figurino perché sono stilista. Oggi parliamo dello stile beau chic, qui lo vediamo in una versione bella carica. Se vuoi ti puoi anche sbizzarrire aggiungendo tanti accessori perché il beau ha bisogno di esprimersi con le stampe, con gli accessori, occhiali da sole Ray-Ban con la lente marrone o quelli leggermente squadrati anni 70, anche quelli marroni, sono tipicamente beau, borse scamosciate e anche tutte queste stampe etniche, anche il pizzo, il crochet, questo mondo del tanto. Però come ho detto in quell'altro video lì, questo qui del beau e dello stile positano, ogni donna decide il livello di opulenza che vuole dare al suo stile perché poi il mondo del beau non è solo quello bello carico di accessori, attenzione ragazze, è anche quello un po' più soft, magari un completino con la gonnellina, tutto delicato, è anche romantico lo stile beau. E qui vediamo tutti gli esempi di gonne, gonnelloni, lunghe perché è anche uno stile che si aggiunge come tipo di gusto, un po' gitano, un po' gypsy, ha questi mondi qui, ma quindi il beau style è per tutte le donne che hanno voglia ovviamente di essere se stesse ed essere anche libere di mettersi addosso quello che gli pare, collane, rocchini, bracciali, cinture, divertitevi perché è uno stile che è divertente il beau. Vi faccio degli esempi di outfit perché abbiamo visto come sui social sono tanto carichi questi outfit, però io voglio provare a farvi vedere alcuni esempi di come fare il beau nella vita reale. Intanto prendiamo questo jeans leggermente svasato, flare non è proprio a zampa, bianco perché siamo in estate e lo prendiamo bianco di pinco, Miss Sixty, ci mettiamo sopra questo bel top crochet marrone color cioccolato ragazze, perfetto, e stiamo già facendo il bianco col cioccolato. Una specie di caftano, non è proprio un caftano perché ha una lavorazione pizzo, non è lunghissimo però su Benetton c'è una cosa di questo genere e tu qui ti fai il completo, vedi che non è una cosa estrema però stiamo lavorando con i materiali perché abbiamo un jeans, un crochet, un effetto pizzo e con i colori abbiamo un bianco con un cioccolato, facilissimo da fare, facilissimo. Ci mettiamo questa stupenda, ragazzi è troppo bella questa cintura qui di Orciani, ci mettiamo la cintura perché il jeans va portato con la cintura quando vuoi essere beau. E qui abbiamo l'alternativa, o il camperos scamosciato color cioccolato o l'espadrilla schiusa bianca che essendo con la zeppa il pantalone flare te la va un po' a coprire e ti slancia la gamba, trucco per essere più alte d'estate. E ci aggiungiamo la borsa tot scamosciata di Gianni Chiarini in questo bel color marrone, va bene, nel senso che vedi che ti sto facendo un outfit che boh, ma non è tanto carico, cerco di non caricartelo troppo questo outfit, però è da tutti i giorni perché poi questa è una borsa che ci sta dentro un sacco di roba. Scamosciata, il lebo predilige anche molto spesso e volentieri le borse scamosciate, ci sono anche quelle in pelle però sono anche quelle scamosciate. Accessori orecchini, qui li mettiamo uno diverso dall'altro e qui ti faccio vedere un brand italiano, questi sono pezzi unici ragazze, non so quando guarderai questo video se questi orecchini ci saranno ancora, non lo so, però questi sono tutti pezzi unici. E questo è il brand gioiellievanescence.it, vai a vedere perché fa molte cose particolari, bello. Italiana. Vediamo il discorso dei texani camperos, apro una parentesi per le appassionate come me, anch'io li adoro. L'altezza della gamba, l'altezza del gambale ragazze, varia. Questo è un gambale con medio, nel senso un'altezza di gambale normale, standard diciamo, però ci può anche essere un gambale più basso e io ve lo faccio vedere proprio qui in questo esempio e questo però ti servirà quando vai a mettere il pantalone. L'ideale sarebbe che il pantalone andasse a coprire il collo del piede perché è più bello, volendolo puoi portare anche un pochettino più lungo, ma mai troppo corto come questo esempio. Per cui quando tu metti un pantalone e sotto ci vuoi mettere un texano, quelle di voi che li hanno portati, anche quelli più bassi lo sanno, quando ti siedi ovviamente il pantalone si alza e il rischio è quello lì. L'ideale sarebbe che il gambale del texano fosse abbastanza alto per rimanere sempre un po' coperto dal fondo del pantalone anche quando sei seduta. Qui ti faccio vedere le spadrillas, perfette per l'estate, comodissime, di questo brand Barca che è un'azienda italiana. Ti ho parlato di questo brand e di molti altri in questo video, vallo a vedere perché ti faccio conoscere diversi brand italiani che producono scarpe e scoprirai che tante volte dei brand sconosciuti ma italiani hanno dei prezzi accettabili con delle bellissime scarpe e tante volte li conoscono all'estero e noi in Italia non li conosciamo. Vai a vedere quel video lì così puoi scoprire dei brand di scarpe italiani, non sono tutti uguali perché cambia l'altezza del tacco. Le spadrillas non ci sono solo con il tacco da 8 centimetri, per esempio Barca ce l'ha anche da 5 centimetri il tacco, quindi se ti piace le spadrillas non è che la devi sempre portare da 8 centimetri, puoi metterla anche un po' più bassa. Ovviamente il boh ha bisogno della gonna, io direi di partire con questa gonna lunga di questo color verde khaki che tra l'altro è un colore di tendenza quest'anno e rimane anche nel mondo del boh, di Calliope che è anche questo un brand italiano. Ci mettiamo sotto il top romantico con un po' di pizzo color pesca di OVS con la spallina fine, voglio farvi degli esempi un po' più soft, almeno così quelle che non vogliono caricare tanto l'outfit possono provare a farlo anche così. Direi che il pesca col khaki sono bellissimi. Ci mettiamo sopra una cintura di orciani color cuoio, la cintura ragazze ci va, arricchisce l'outfit e rende completo l'outfit. Io ti ho fatto vedere in tanti dei miei video come arricchire i tuoi outfit in questo video e anche in questo video. Qui ti faccio vedere la versione elegante, qui ti faccio vedere invece come arricchire i tuoi outfit nel mondo boh. Vedi che la logica di gestire gli accessori per gli outfit si presta a tutti i tipi di stili, poi quanti accessori tu vai a mettere è una scelta tua. Una bella collana a più fili con questi colori naturali, sempre di Evanescence, quella che ti ho fatto vedere prima degli orecchini. Sandalo alla schiava, sandalo tipo gladiatore, ecco questo più il sandalo tipo gladiatore in color cuoio. Va benissimo, rimane nel mondo boh, rimane nel mondo hippie, rimane nel mondo del boh chic, c'è c'è c'è. In genere sarebbe meglio scegliere dei sandali tipo gladiatore o tipo schiava che non vanno più su di due dita della caviglia. Cioè sono molto belli, sono portabilissimi, sono comodi, sono anche particolari. Meglio se infatti in vera pelle come questo di Leonardo Shoes che ti faccio vedere qui. Però non troppo alti, infatti questo è un'altezza normale. Quando sono tanto alti che arrivano sotto al ginocchio o li mettono per le sfilate o alcuni casi rischiano di essere volgari. Questi due dita sopra la caviglia ragazze non sono volgari, te li puoi mettere tranquillamente. E poi qui ci va una borsa intrecciata di pelletteria Maran che rimane in questo mondo di colori. Vedi come si sta creando questo outfit che è facile da fare, facile da portare. Qui ci togliamo il vezzo di mettere questo orecchino fatto a stella marina di Giovanni Raspini. Ti ho parlato di tutto il mondo delle conchiglie, delle stelle marine per gli accessori. In questo video qui vallo a vedere perché c'è tanto degli anni 2000. E quindi ce lo mettiamo questo bello orecchino a stella marina. Lo mettiamo piccolo perché? Perché abbiamo già la collana e quindi ci andiamo a mettere l'orecchino piccolo. Se sopra ti vuoi un po' coprire magari perché fa freddo e sia o mattina, questa bella giacca cropped di OVS sempre verde khaki con queste tasche utility è perfetta. Tra l'altro questi sono tre capi, la canotta, la gonna e la giacca che userai sempre. Cioè tutti questi pezzi che vi sto facendo vedere in questi outfit sono pezzi che tu puoi far girare tra di loro e li porterai sempre. Ovviamente devono piacerti come tipo di gusto. Curvy Style, vediamo questo bellissimo abito di In Trend, anche questo brand italiano. Mussola misto seta, qui siamo cotone misto seta, questa bella mussola. Con questa stampa degradé, con questo effetto quasi tropicale perché parte del verde scuro e mi va giù fino al chiaro. Nell'outfit ci hanno messo una cintura chiara, però io preferisco metterci questa più scura che si abbina alla parte sopra. Secondo me sta meglio una cintura scura di Orciani, di questo verdone. Campo Maggi, azienda anche questa italiana che fa borse in pelle, stupende, molto boh come borse. Ci aggiungiamo anche un sandalo con un effetto metallizzato però arancione di Geox. Qui non ho messo la collana perché ci giochiamo gli orecchini di Etrusca Gioielli, con questa forma di mezzaluna che ricorda la stessa forma della borsa di Campo Maggi. E qui ti faccio vedere alcune delle borse di Campo Maggi. Vai a vedere perché hanno delle borse con un gusto boh stupende. Sia nei colori, quindi tutti gli ocra, i nocciola, il cioccolato, poi hanno tutto il mondo delle borchie, delle frange, le varie dimensioni. Diciamo che Campo Maggi è un brand italiano che fa tante borse molto boh. Se ti piace quel mondo lì, vai su Campo Maggi perché sicuramente la borsa boh che piace a te la trovi. E quindi i capi, per semplificare, come faccio a farmi questo boh senza diventare matta? Qui c'è lo schema. Una camicia tipo hippie magari in lino, in cotone, leggerissimo. Un'altra topettino un po' romantico magari con delle rouge, dei fiocchettini, del pizzo. Il classico top fatto canotto che può essere tanto in jersey quanto anche qui in sangallo tutto lavorato in pizzo. O in macramè. Sotto hai il mondo del pantalone un po' a zampa e i gonnelloni in tutti i modi, sia uniti che fantasia. E poi tutti i maxi abiti possibili, immaginabili, che però siano nel mondo boh. Quindi abbiamo parlato di stampe etniche, colori naturali, oppure abbiamo parlato magari del panna, del crochet, del bianco. Vedi che più o meno i capi sono questi. Non è che bisogna diventare matte per fare uno stile boh, ragazze. Stiamo parlando dell'estate e si fa in fretta. Gli accessori non possono mancare, soprattutto per il boh. Poi ognuna di voi sceglierà quanto spingersi oltre, quanto essere nell'opulento, quanto essere nel semplice. Io questo l'ho già detto in tanti dei miei video. Non parlo solo del boh style. Ho fatto un video bello approfondito sull'old money, per esempio, che è un po' più essenziale. Ti ho fatto anche dei video su come abbinare gli accessori sugli abiti. Ragazze, guardate le playlist perché ci trovate veramente tante tante idee. E qui ti faccio vedere un riassunto di quelli che possono essere gli accessori tipici del boh facili, perché poi alla fine sono facili. Ovviamente orecchini, collane, bracciali, anelli, come non ci fosse un domani da avere. Poi occhiali da sole, beh l'occhiale da sole. Siamo nei due mondi, il Ray-Ban con la lente marrone, volendo la montatura durata, e quelli un po' anni 70 squadrati, magari effetto tartaruga. Siamo su delle cose facili, però è l'insieme che te lo rende boh. Se tu vai a prendere i pezzi divisi tra loro, sono pezzi facili, perché occhiali da sole, marroni, collane, orecchini, orecchie, cinture, anche qui tante tante cinture, alte, soprattutto alte. Poi le scarpe, parlando di estate, primavera, estate, sicuramente il texano, meglio se scamosciato. Il sandalo tipo gladiatore, il sandalo alla schiava, abbiamo detto, non più alto di due dita sopra la caviglia. E spadrillas in tutti i modi, con tutte le altezze di tacco, anche tutti i tipi di sandali etnici vanno benissimo. E poi le borse, tipicamente boh, dalle frange, borse scamosciate. Nel mondo del boh, in genere, la dimensione della borsa è dalla media a quella grande. Non ci sono tante borse piccole nel boh, il boh chic è in continua evoluzione, per cui lo vedremo anche nell'inverno, e io di questo sono molto contenta, e anche molte di voi sono contente del boh chic, perché siamo in tante ad amare questo tipo di stile. Diciamo che non c'è solo lo stile minimalista anni 90, per fortuna la moda ci fa contente tutte, ci fa vedere lo stile romantico, ci fa vedere lo stile sportivo, ci fa vedere lo stile boh chic, ci fa vedere lo stile minimalista, ci fa vedere l'olvane. Ragazze, non c'è un solo stile che va di moda in tutto il mondo, per fortuna. Quindi divertitevi e fate gli esperimenti, fai gli esperimenti, esci dalla tua zona comfort e prova nuove idee. Ci si può davvero divertire a vestirsi in tantissimi modi. Condividi questo video con le tue amiche, io nei miei video cerco sempre di farti vedere come portare questi stili nella vita reale. Se questo video ti ha dato delle idee, metti un like, e noi ci vediamo tutte le settimane sia su Instagram che su YouTube. Su questo canale troverai anche dei video dove insegno a disegnare il figurino di moda, perché sono stilista. Quindi non faccio l'influencer, nei miei video non parlo di quello che mi metto addosso io ragazze, io parlo della moda. Mi è fatto piacere anche oggi parlare di moda insieme a te. Alla prossima settimana, ciao da PatriziaPato74, ciao! Ciao!